Si chiama Molise Arti il progetto della Fondazione Giovanni Paolo II per far sentire meno soli i malati oncologici. Si chiama Molise Arti ed è un progetto della Fondazione Giovanni Paolo II per portare l'arte e un po' di speranza anche all'interno dei reparti. Sentiamo Monica Raucci. Immaginate se il corridoio di un ospedale come questo dove ogni giorno passano malati in lotta contro il tumore possa diventare così. Si chiama Molise Arti e suona come il nome di una mostra ma in realtà è un progetto ospedaliero della Fondazione Giovanni Paolo II per ora in fase di ideazione grafica. Su ogni muro immagini della propria terra, racconti, storie, radici e così sul corridoio vengono disegnate linee a ricordare i percorsi dei tratturi che accompagnano i malati e i familiari in un cammino, quello della cura, fisico ma anche metaforico, nella sala di attesa. Immagini di gente, piazze, vicoli di paese per riconoscersi anche nello spaesamento della malattia e per provare a sentirsi in qualche modo a casa. Il territorio parla al cuore di tutti ma anche e soprattutto al cuore degli anziani che sanno legare a quelle terre anche forse il ricordo di una loro giovinezza, di quando loro avevano delle speranze e quindi voler essere anche in questo in grado di stabilire una continuità e una relazione profonda. Però il territorio è anche un'appartenenza per tutti perché le proprie radici e la propria identità ogni volta che uno si allontana scopre quanto valga. Nella stanza della radioterapia le immagini sfumate del sito archeologico di Sepino, anche in questo caso una metafora, un modo per sentirsi in contatto con le radici antiche e proiettare la propria storia. Il progetto, già realizzato con successo all'ospedale Gemelli di Roma, dove le sale di cura destinate ai bambini malati si sono trasformate in un gigantesco acquario a Campobasso e in via di realizzazione, chiunque dai sindaci ai privati cittadini può finanziarlo, riempire i vuoti dei corridoi, con le immagini un messaggio di cura e di vicinanza rivolto a quegli altri vuoti, quelli dei malati.